Approvato in extremis, grazie alla sinergia dei 16 comuni dell'area vasta di Cagliari, il piano strategico intercomunale. Il progetto di sviluppo integrato, che definisce gli obiettivi strategici di medio e lungo termine, in particolare nell'ambito della mobilità, è stato presentato oggi dalle 16 amministrazioni comunali presso il Comune di Cagliari, capofila del progetto che apporterà numerosi cambiamenti. Cambierà sicuramente in meglio per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, il sistema di viabilità, a partire dalla 554 con nuovi svincoli, con l'eliminazione degli incroci a raso per quanto possibile e dei semafori che rallentano la circolazione. La metropolitana leggera, che da settimo San Pietro arriverà fino a Monserrato, da Monserrato la tratta esistente fino a Piazza Repubblica, da Piazza Repubblica fino a Piazza Matteotti, da Piazza Matteotti verso il Poetto e poi dovrà ricongiungersi con le linee della metropolitana sia verso Quartu, per poi ricollegarsi sull'altro versante, Serargius, Quartuccio, quindi interessare gli altri comuni dell'Interland e sull'altro versante, a partire da Piazza Matteotti, verso via Santa Gilla, Santa Vendrace e quindi arrivare fino a Sesto. Cagliari è la città che confina con tanti di questi comuni e come i dati delle statistici che abbiamo presentato l'altro giorno i flussi di cittadini che vanno a vivere nell'Interland e questo fenomeno non si è ancora arrestato anche per il costo delle case, per l'assenza di case a costo agevolato in città e quindi da un lato tentare di arginare questo fenomeno e dall'altro però sapere che in città entrano 200 mila veicoli ogni giorno e quindi un sistema di mobilità, che questo sia attraverso i mezzi pubblici, attraverso la metropolitana leggera strade migliorate nell'ambito del collegamento con la città il collegamento di una metropolitana che stiamo ipotizzando anche verso Capoterra dove arrivano ogni giorno verso Cagliari 30 mila veicoli e piste ciclabili e zone pedonali consentiranno di avere una migliore qualità della vita e ai cittadini di risparmiare i 2 euro di benzina al litro. Il piano strategico intercomunale costituisce un importante strumento di accesso alle risorse finanziarie messe a disposizione dall'Unione Europea in assenza del quale le stesse risorse sarebbero andate perse come accade negli anni dal 2000 a 2006 Dopo il consistente impegno da parte dei comuni dell'area bassa di Cagliari la parola ora passa alla Regione che dovrà decidere se dare o meno una spinta decisiva alla pianificazione strategica.